Una gara a cronometro tra le spallette dei fossi medicei, tra le luci che illuminano l'acqua e le voci che spingono i remi sulle vene salmastre della città. Conta il ritmo, non basta la forza. La sfida più tecnica delle gare remiere è una sfida contro se stessi. Diventa anche tu parte dello spettacolo. Coppa Barontini, tutto il fascino della passione remiera. Coppa Barontini, tutto il fascino.